buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv un tempo oggi particolarmente perturbato ne parleremo con le previsioni del tempo quindi stiamo a casa leggiamo i giornali passiamo una giornata tranquilla bene oggi è mercoledì 22 novembre 2023 e si festeggia un santo conosciuto da tutti patrono dei musicisti vediamo subito la grafica eccola qua è santa cecilia tutti sanno che patrona dei musicisti ma pochi sanno perché patrona dei musicisti comunque una santa che visse nel secondo secolo sotto l'imperatore alessandro severo di famiglia nobile fatta sì cristiana rimase fedele a cristo fino alla morte che le fu inferta per per decapitazione ebbene anche in questo in questo momento momento della morte il carnefice ebbe molto da fare perché insomma non era capace di di mandarla all'altro mondo ma perché dicevo è patrona dei musicisti perché le viene attribuito un brano della passio nel quale descrive il suo matrimonio come una sinfonia di strumenti musicali e di canti al signore quindi veramente appassionata alla musica e alla dolcezza alla bellezza che il suono musicale può determinare santa cecilia e vediamo ora le previsioni del tempo come ho annunciato tempo brutto tempo brutto su tutte le marche tempo diffusamente instabile sulla nostra regione con piogge rovesci per la gran parte della giornata il calo termico è sensibile la temperatura minima 13 gradi pochissima l'escursione termica la massima 14 gradi quindi solo un grado di differenza vediamo che il sole sorge questa mattina alle 7 e 17 e tramonta alle 16 e 35 i venti spireranno sulle coste da una direzione di sud est mentre nell'interno da una direzione sud sud ovest il mare è molto molto mosso vediamo dunque i giornali giornali questa mattina che parlano diffusamente annunciando tutti i particolari sul delitto di via montefeltro ieri c'era stato poco tempo per i giornalisti di cercare di assumere notizie per quanto riguarda questo nuovo episodio ma ora si focalizza in un modo diverso da quanto all'inizio si poteva pensare dire femminicidio è una espressione impropria in questo caso quello che è avvenuto non è frutto di sud di supremazia di violenza di volere sovraccaricare le responsabilità dal maschio alla femmina dall'uomo alla donna e quindi far prevalere la forza maschile su quella femminile no non è così non è così questa volta perché quanto è avvenuto è il frutto di un problema che probabilmente che no probabilmente che non si è riusciti ad affrontare nel modo giusto e nemmeno le istituzioni lo hanno fatto vediamo subito i titoli strangolata ai piedi del letto sul corriere adriatico lui aveva tentato il suicidio perché aveva tentato il suicidio perché non riusciva più a controllare la moglie che affetta da problemi psichiatrici insomma stava agendo in una maniera molto molto anormale così affetta da una eccessiva prodigalità aveva dei comportamenti strani qualche volta diventava anche aggressiva e tutto questo è così stato accelerato così aumentato così diventato insostenibile che alla fine ha determinato questo atto ovviamente in consulto un atto molto molto grave da parte del marito che però alla fine non ha più resistito rita talamelli era morta da alcune ore quando lunedì sera il cadavere è stato rinvenuto nella villetta il marito angelo sfuggiti è arrestato per omicidio aggravato angerito a psicofarmaci ma è fuori pericolo il corriere adriatico dedica due pagine a questa a questa vicenda un altro articolo riguarda la personalità appunto del marito angelo viveva con la moglie ma ora lui stesso è una vittima gli amici del pizzaiolo ricordano il suo disagio diceva di non farcela più pur accusato di un grave reato come quello di omicidio volontario angelo sfuggiti appare lui stesso una vittima una vittima di una situazione familiare che per lui era diventata insostenibile e che lo aveva indotto più volte in passato a tentare di togliersi la vita l'ultima volta hanno ricordato gli amici alla fine di agosto quando aveva ingerito un'eccessiva dose di barbiturici era stato per questo ricoverato in ospedale dove i medici lo hanno salvato in extremis facendogli la lavanda comunque era un tentativo che aveva già fatto anche in passato nei momenti di sconforto nei momenti in cui non riusciva più a vincere la sua depressione a causa dei rapporti con la moglie che ovviamente non era più in sé non era più quella di una volta una donna che lui continuava comunque ad amare e cercava di proteggere di tutelare in tutti i modi però alla fine non gliela fatta vediamo anche come il resto del carlino tratta la vicenda anche qua abbiamo due pagine uccisa dal marito le indagini il pm fa sequestrare il telefonino oggi l'autopsia è convalida angelo sfuggiti risponde del reato di omicidio volontario aggravato dal legame familiare verrà affidato una perizia ad un ingegnere informatico per aprire il cellulare dell'omicidio ebbene anche qui si parla della vicenda si cerca di capire come progrediscono le indagini oggi comunque alle 10 e 30 ci sarà l'udienza di convalida dell'arresto da parte delle gip non ci sarà angelo sfuggiti perché è ricoverato in ospedale e quindi probabilmente sarà necessario un secondo incontro per interrogare appunto l'imputato quando questo sarà ristabilito è la rabbia degli amici una tragedia annunciata parlano luca navacchia e marco cascioli da decenni confidenti dell'omicida la moglie dopo la malattia era ingestibile era stato lasciato solo dalle istituzioni aveva cercato angelo un posto dove far ricoverare la moglie ma tutte le istituzioni gli avevano chiuso le porte e quindi era lui che doveva farsi carico di un compito gravoso e forse non all'altezza delle sue possibilità le parole shock del figlio che convalidano questa situazione per lei nessun dolore dice per lei alla madre nessun dolore non era più mia madre da molto tempo luca il figlio di 48 anni è stato il primo a trovare il cadavere della donna quella sera quell'altra sera dopo che era morta ormai da due ore era a terra coperta da un asciugamano mio padre era steso sul letto la gente che commenta non conosce il dramma della mia famiglia anche qui come si fa ancora più luce per quanto è avvenuto e il tutto appare sotto una dimensione diversa da quanto poteva apparire in un primo momento ed ora passiamo alle altre notizie sì poi qua ci sono ancora dei risvolti abbiamo le condoglianze e le dichiarazioni il cordoglio del sindaco per quanto è avvenuto il sindaco massimo seri e poi ancora dei commenti da parte di vito in serra presidente dell'associazione liberamente che sicura che si occupa della cura dei malati psichici che si occupa di disagio mentale dunque serve un'assistenza adeguata per allentare le tensioni quell'assistenza che magari la signora la signora la moglie di angelo sfuggiti non ha trovato e poi si parla ancora di violenza in questo caso si parla di violenza quella vera propria quella conclamata quella che deriva dalla tracotanza dall'egoismo degli uomini in fuga dopo le violenze sessuali le vittime picchiate e abusate ora viviamo nella paura che torni ebbene ancora in fuga federico marcelli di 49 anni ex ristoratore barista pesarese evaso dai domiciliari una settimana fa aveva agganciato a suo tempo nella sua rete due donne moldave di 43 e 49 anni all'inizio aveva un atteggiamento molto disponibile molto cortese ma un atteggiamento che nascondeva la vera natura violenta prevaricatrice che aveva dentro ebbene ci è bastato poco per diventare violento per pretendere rapporti sessuali in qualsiasi momento per degradare le sue vittime offenderle e anche malmenarle insomma la situazione è apparsa chiaro a chiara alle due donne poco tempo dopo la prima frequentazione e poi la denuncia finalmente perché alla fine la sopportazione è raggiunta al limite però insomma in questo momento marcelli e uccell di bosco scuole l'entroterra la riscossa sasso corvaro e urbania sono al top in questo momento si parla di orientamento si parla anche di open day delle scuole per far vedere i loro i propri indirizzi scolastici le proprie risorse le proprie prerogative e c'è anche un analisi un report che viene realizzato dalla fondazione agnelli un report che valuta i risultati ottenuti dagli alunni dopo le superiori e questo naturalmente è il frutto del loro percorso scolastico è l'analisi endoscopio allora vediamo che cosa ha deciso che cosa ha fatto emergere questa analisi il vannucci è il primo tra i licei scientifici per la preparazione in vista della università il Nolfi di Fano batte il Mamiani di Pesaro e sul fronte dell'ingresso del mondo del lavoro vince il Della Rovere e qua abbiamo in questa lunga tabella questa lunga e articolata tabella tutti i risultati ottenuti dai vari istituti della provincia abbiamo gli istituti economici, tecnologici, professionali di servizio, l'industria dell'artigianato eccetera eccetera e qua abbiamo invece la classifica per quanto riguarda la preparazione della università guardate che bel sorriso aveva questa ragazza si tratta di Alice Fraternali scomparsa lo scorso agosto a soli 19 anni a causa di un melanoma aggressivo che aveva scoperto per caso nel 2020 morta a soli 19 anni e con la laurea per Alice sognava di fare l'infermiera ebbene aveva frequentato il corso triennale alla facoltà di medicina e chirurgia del Politecnico delle Marche ebbene la laurea le verrà consegnata ugualmente post mortem la cerimonia è in programma oggi alle 13.15 nell'auditorio Montessori appunto della facoltà anconetana il preside della facoltà il professor Mauro Silvestrini consegnerà la pergamena alla famiglia a loro scrivono dell'università di Incone il cordoglio e l'affetto da parte di tutta la comunità universitaria non si può morire a 19 anni giriamo ancora la pagina e parliamo di elezioni perché si profila, si concretizza sempre più anche se non è stata ancora annunciata formalmente la candidatura del sindaco Ricci alle prossime europee elezioni in arrivo nel 2024 Ricci verso le europee e ci sarà anche la Morani ma non è detto che il tandem funzionerà come è stato così aggregato nelle passate elezioni forse qualcuno, forse entrambi voglio dire andranno per conto proprio comunque sono tutti e due proiettati verso questo obiettivo c'era chi aveva addirittura anticipato una possibilità di ticket per le prossime elezioni europee mettendo insieme un'incredibile coppia politica del passato composta da Matteo Ricci e Alessia Morani dice appunto il resto del Carlino a Vallefoglia torna una manifestazione giunta alla quarta edizione con successo si parla di una di quelle feste di carattere agricolo di carattere economico che esaltano i prodotti di autunno Vallefoglia d'autunno è il titolo e i sapori vengono messi in piazza infatti è una iniziativa che verrà allestita è allestita proprio nella piazza di Vallefoglia e ci saranno tanti tanti espositori per prodotti come il tartufo i funghi, il miele, le melagrane, l'olio, il vino nuovo castagne, insomma noci tutto quello che l'autunno riesce a produrre in maniera di grande qualità c'è stato un incontro un incontro tra i sindacati e esponenti di diversi comuni per così cercare di combinare di trovare un'intesa sui bilanci e sulla destinazione delle risorse che sono a disposizione degli enti locali sindacati ai comuni emergenza casa e famiglie lotta dura all'evasione fiscale ebbene si sale dunque nella contrattazione sui temi soprattutto del sociale da una parte i sindacati uniti CGL, CIS, LEWILL dall'altra parte le amministrazioni comunali ebbene si è discusso molto su come utilizzare le risorse e vediamo che al primo posto c'è il problema della emergenza abitativa si tratta poi di scovare gli evasori per andare a recuperare quelle tasse locali evase come quella soprattutto della Tari e dell'Imu perché basta andare a incrociare i dati con l'ufficio dell'imposto insomma non è una ricerca molto molto difficile e ci sono poi diversi aspetti che sono stati trattati in questo incontro come per esempio il problema della fragilità di molte famiglie quelle con bimbi piccoli ed anche quelle che hanno casa persone con patologie gravi che devono farsi carico di un'assistenza che spesso diventa insopportabile come abbiamo visto nel caso del delitto dell'assassinio che c'è stato a Fano l'altro giorno si è spento Mario Morosini per gli Agnelli era Romagna uno dei protagonisti della vita cittadina aveva aperto la Mondial Ceramiche vivendo il boom dell'edilizia e anche un locale il Rox a Campanara o nel personaggio molto conosciuto la famiglia Agnelli lo chiamava Romagna lui era Mario Morosini morto ieri dopo un delicato intervento ecco qui quindi passiamo al Corriere Adriatico abbiamo visto le due pagine dedicate a quanto è avvenuto l'altra sera in via Montefeltro a Fano o tra i quartieri di Poderino e di Fano 2 ed ora diamo un'occhiata anche alle altre notizie l'articolo di apertura parla di un incontro tra i ristoratori fanesi si sono incontrati così per elaborare un programma un pacchetto di richieste da consegnare ai candidati e ai partiti in vista delle prossime elezioni amministrative costituire un fronte comune per creare un documento programmatico contenente le istanze della categoria questo è stato l'obiettivo dell'iniziativa un'iniziativa che è stata organizzata dall'associazione ristoratori fanesi aderenti alla Confcommercio c'erano quindi tutti i vertici della Confcommercio a partire dal direttore di Marche Nord Amerigo Varotti poi anche della presidente dell'associazione fanese Martina Carloni c'era la presidente della Confcommercio Barbara Marcolini insomma tutti i rappresentanti più significativi dell'associazione di categoria tra le richieste prioritarie è messa quella di valorizzare il ruolo fondamentale dei DEOS come garanti del decoro urbano questa possibilità di così utilizzare le aree esterne da parte di molti ristoranti da molti esercizi costituisce una fonte di reddito in più che è stata incrementata durante, vi ricordate, il Covid perché poi gli interni allora erano chiusi e poi non di meno è sentita l'esigenza di eliminare o almeno modificare la tassa sulle strutture leggere che hanno tre comuni in tutta Italia di cui uno è Fano una tassa che viene considerata iniqua sulla tassa di soggiorno invece si annuncia una battaglia perché tutto l'importo che il Comune assorbe venga poi utilizzato venga poi riversato nel settore del turismo e poi ci sono ancora c'è ancora l'esigenza di incrementare le segnalazioni stradali che indicano appunto i ristoranti la visit card realizzata e diffusa dall'assessorato al turismo andrebbe implementata e comunque comunicata oltre che agli albergatori anche ai ristoratori e tra le iniziative in cantiere che incentivano la promozione della nostra enogastronomia viene annunciato il Festival della Purassa una nuova iniziativa che intende valorizzare questo prodotto tipico che a Fano ha una grande qualità e ha una grande anche tradizione tant'è che viene esportato in diversi paesi europei specialmente in Spagna interessante anche il progetto 3DOP un'iniziativa che fa riferimento alle 3DOP che esistono nel territorio si tratta della DOP dell'olio di cartoceto della DOP del prosciutto di Carpegna e della casciotta di Urbino tre prodotti di eccellenza che fanno promozione anche del nostro territorio San Lorenzo in Campo San Lorenzo in Campo si parla di edilizia popolare gli alloggi da 11 mesi pronti per l'assegnazione lavori sono stati sottoposti ad indagini penali ma è stato sbloccato il cantiere di San Lorenzo ebbene si parla di questo problema che è un po' diffuso in tutta la provincia a San Lorenzo in Campo si promuovono 11 appartamenti di cui 9 in via Manzoni ultimati nel 2019 ma non ancora assegnati e 2 a San Vito quindi è ora di accelerare i tempi per la consegna di questi appartamenti la pagina di Senigallia parla ancora di enogastronomia e parla degli chef di coloro che hanno le stelle di coloro che hanno la professionalità ad alti livelli Oscar degli chef e guida Top Italy altre vetrine per Uliassi e Cedroni due personaggi che promuovono anche loro a loro modo il loro territorio e attirano persone perché cenare da Uliassi e Cedroni è veramente una cosa dicono eccezionale e poi con il Natale alle porte ci sono anche quei dolci griffati panettoni che hanno un tocco in più d'arte culinaria e maxicene di beneficenza e quindi anche questo dato è un dato di valore turistico oltre alle spiagge oltre agli eventi alle manifestazioni anche l'enogastronomia veniamo anche alla cronaca scommesse proibite e vincite esentasse giocava nei siti illegali un operaio nei guai si tratta di un quarantenne senigallese che è stato denunciato perché aveva scommesso circa 150 mila euro nei siti illegali è stato senzionato anche con una multa particolarmente ingente 20 mila euro che dovrà pagare perché sulle vincite non aveva pagato le tasse dovute al fisco quindi anche una pena amministrativa in più rispetto a quella penale vediamo anche le notizie di Pesaro anzi della regione Marche perché in questo caso vediamo come in consiglio comunale si è cominciato a discutere della nuova legge urbanistica e sono stati presentati oltre 300 emendamenti che spacca gli enti locali ieri il via la discussione sulla proposta della giunta in consiglio regionale dopo sette ore nulla di fatto quindi si continua a parlare oggi si riprende alle nove lavori avanti a oltranza fin quando non si giunge al momento del voto non pretendiamo che sia perfetta ha dichiarato il governatore Francesco Acquaroli questa legge ma dopo 30 anni andava fatta ci sono ritardi clamorosi sul piano paesaggistico dovevate approvarlo cinque anni fa ha dichiarato Acquaroli alle opposizioni e beh insomma questa legge urbanistica fa molto discutere perché poi dovrà regolare lo sviluppo delle nostre città almeno per i prossimi 20-30 anni gli obiettivi sono quelli di contenere il consumo di suolo ma di far sì che lo sviluppo delle comunità ancora vada avanti e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento per le notizie del giorno alle 20-30 nelle TG di Fano TV Occhio alla Notizia e domani alle 7 per la rassegna stampa grazie per l'ascolto a risentirci a Abg per la vis inscrizione a ang ora il bu Grazie a tutti